Ah, gli tedeschi sono cattivi, gli inglesi sono cattivi, non è vero, non è di buona di cattivi, tanto negli inglesi come negli tedeschi. Io sentivo che portavano via questi bambini, erano ebrei, ma io da bambina non capivo, pensavo che magari un giorno o l'altro arrivassero anche a noi a portarci via. Un mercoledì alle tre è arrivato un coro di granate, le schegge si sentivano zoom zoom. Correre avanti e indietro fra le bombe finché non ti prendevano, andavi. Noi attorno ai rifugi giocavamo, era una vita di campeggio per noi bambini. Vedevo una flotta diciamo di come cacciano avanti e poi di dietro tutti, 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 si sentivano zoom zoom zoom, ho capito? Tre anni senza scrivere perché la posta non c'era e un giorno ho bussato la porta e poi ho detto chi è? E ho detto è Guerino, ma Dio è il prigioniero, è quello della Russia. Ma i soldati, i soldati che c'erano, con quei moschetti, ping, in quei boschi, ping, ping. La guerra le hanno brutto bestia. Un bambino che non l'ha mai visto è qualcosa che si farà giustare i capelli. E quei rosari, quanti rosari che dicevamo.